Sono in arrivo 3.000 saturimetri per le famiglie pesaresi che hanno in casa persone sopra i 65 anni o disabili gravi. Il Comune di Pesaro ha annunciato nei giorni scorsi di aver investito così 40.000 euro avanzati dal milione speso in voucher di bonus spesa, bonus bambini e bonus attività che si stanno consegnando porta a porta questa settimana. Ora arrivano anche delucidazioni su come si potrà ottenere gratuitamente il saturimetro. Si potrà fare domanda da mercoledì 25 novembre a mercoledì 2 dicembre. Dopodiché Comune e Aspes consegneranno i saturimetri ai richiedenti nei primi giorni di dicembre. Le domande andranno inoltrate sul sito del Comune oppure ad un numero verde che verrà comunicato nella giornata di martedì. Il saturimetro è uno strumento piccolo che viene utilizzato proprio per vedere e verificare la saturazione dell'ossigeno all'interno del nostro organismo. È composto di uno schermo, di un piccolo schermo dove vengono riportate sia l'ossigenazione del corpo e sia i battiti cardiaci. Quindi sono praticamente le due cose che vanno sempre di pari passo. Dopodiché si inserisce all'interno del piccolo strumento un dito e si aspetta praticamente qualche secondo e dopo qualche secondo abbiamo la risposta alla nostra richiesta praticamente. Questo sul visore si vede praticamente benissimo come si deve comportare. Diciamo che l'ossigenazione per essere perfetta deve essere dai 93 ai 99. Il saturimetro è uno strumento di prevenzione che in farmacia ha un prezzo che oscilla fra i 40 e i 60 euro. Strumento che è probabile venga richiesto da più di 3.000 famiglie. Se si dovesse sforare quella soglia verrà data priorità alle famiglie con reddito più basso, a quelle che pagano l'affitto e agli anziani che vivono soli. Noi siamo parte integrante di questo progetto che ha voluto fortemente il sindaco Ricci dare la possibilità a 3.000 famiglie pesaresi di poter utilizzare questo strumento che in questo momento di epidemia legata al covid è fondamentale proprio all'interno delle famiglie. I virologi dicono dove c'è un termometro ci dovrebbe essere un saturimetro e la volontà del comune di Pesaro è proprio quella di poter dare la possibilità anche a quelli che hanno problemi economici, meno possibilità di approcciarsi a uno strumento di questo genere di poterlo fornire. Dalla prima settimana di dicembre noi come Aspens forniremo al comune questi 3.000 saturimetri che misurano l'ossigenazione del sangue e anche il battito cardiaco quindi daranno la possibilità di conoscere il livello di ossigenazione che è quello che bisogna tenere sotto controllo per capire se ci sono o meno problemi proprio legati all'infezione da covid. Come Aspes organizzeremo anche per tutti i volontari che distribuiranno questi saturimetri nei quartieri della città un corso di formazione proprio per spiegare come funziona il saturimetro, quale sono l'approccio ai valori e alle misurazioni che il saturimetro farà e lo faremo proprio coinvolgendo tutti i quartieri i volontari che già sono stati utilizzati per conto del comune proprio per la distribuzione in questi giorni e nei mesi precedenti dei buoni prima spesa e poi dei buoni bambino.